Senza titolo, ma sono aperto a suggerimenti. Del tipo? Del titolo. Del titolo? Del titolo? Di che tipo? Ho detto che questa canzone non ha titolo. Ah, non ha titolo. Ma sono aperto a suggerimenti. Non capito. Adesso. Non ho perso un... Non lo so. E non ci sono in casa. No lo so. Sì, è Wasse. Il vostro errore, Non è vero, Non è vero, Non è vero. Non è vero in casa. Non è vero il pò, Non è vero il pò, Non è vero il pò. Oggi è vero il pò, I guardare il pò, Grazie a tutti 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 Grazie a tutti